Buongiorno a tutti, come Sindaco ho più volte affermato pubblicamente di essere particolarmente orgoglioso di annoverare all'interno del nostro territorio comunale una organizzazione come l'Avis Montemarciano. Non c'è infatti una famiglia che non abbia mai soffritto dei servizi dell'Avis. Il Covid purtroppo continua ad essere un grosso rischio per tutti e proprio per questo è partita questa lodevole iniziativa che porterà all'acquisto della nuova ambulanza speciale che garantirà una maggiore sicurezza ai pazienti e ai volontari che la utilizzeranno grazie ad un nuovo sistema di aerazione. Partecipate il più possibile alla campagna Diventa il mio angelo facendo una donazione finalizzata all'acquisto di un bene di cui ne beneficerà tutta la cittadinanza. Seguiamo uno dei tanti diaforismi di Einstein. Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di donare e non in ciò che è capace di prendere. Un caro saluto a tutti i cittadini di Montemarciano.